Si chiamava Nicola Burley, era una donna che era scomparsa nel gennaio 2023, doveva avere accompagnato i figli a scuola e stata trovata priva di vita dopo 24 giorni nel fiume Oae, che si trova in Inghilterra. Il marito ha avuto uno sconvolgimento totale perché hanno scoperto che qualche personaggio usco avrebbe usato il volto della donna in un altro incontri. Questa è una situazione che è veramente incredibile. In pratica qualcuno si è divertito a sostituirsi alla donna in questione, mettendo in piedi una truffa sul web o online. La famiglia è stata informata di questa presenza della donna della foto di Nicola Burley in altri incontri e ha già provato a fare cuore alla denuncia e a rimuovere tutti i contenuti che riguarderebbe la donna. Vi ricordo che sarebbe stata trovata proprio in Inghilterra priva di vita e questa è una cosa terribile e non che devastante. Dal vostro narratore italiano di Youtube Italia è tutto, iscrivetevi, commentatevi e non mi ricordo non c'è più e lasciate un voto incontri nella famiglia. E così, grazie. Escrivetevi.